ciao ciao ragazzi allora oggi siamo in borghese quindi io fumo pure una senza e chi si è visto si è visto dove stiamo andando io e lefty oggi vestiti così da bravi pagetti stiamo andando a ritirare una daitona non è vero stiamo andando a fare oggi un off topic un off topic ragazzi voi sai cos'è quel toc toc ok allora niente ragazzi oggi io e lefty qui c'è da capire anche cos'è sto il cigolino del volante quello è quando si seccano dentro le membrane le gomme le plastiche me lo fece anche un'altra macchina allora niente ragazzi oggi io e lefty stiamo andando a fare praticamente io il presentatore e voi il modello ci vedrete in televisione purtroppo ragazzi bisogna fare questo ed altro per la family e quando la famiglia chiama bruce risponde di conseguenza ha risposto anche lefty che ormai si può dire di qua meglio allora ragazzi state connessi andiamo a vedere cosa stiamo facendo piccolo aggiornamento invece per quel che concerne la mini ragazzi noi praticamente mercoledì mattina ci sarà una sorpresa pazzesca sul canale pazzesca state connessi non vi muovete poi se tutto va bene ragazzi oltre alla sorpresa andiamo a rimettere in moto anche la golf domenica giro del polesine e poi dalla settimana dopo ciò da prendere in mano sia la golf che il cooper s quindi faremo un'indigestione di lavori stiamo sistemando anche il 530 x drive touring 61 perché ormai ragazzi tanto qua a milano mi stanno rompendo le palle e quindi mi sa che andrà in mano a uno di voi a te andrà in mano a te tu lo vuoi il 530 tutto rifatto come nuovo che va in strada come quando aveva 30 mila chilometri non te lo do se non dimostri di essere una persona meritevole non te lo do neanche se paghi cifre indicibili comunque andiamo a vedere cosa stiamo facendo max andiamo allora ragazzi volevamo andare tutti allo zoo comunale e invece andiamo dai vis andiamo dai vis andiamo dai vis a farci due giacchi in pelle nuove e una televendita di 15 minuti che vedrete in televisione io presento lui fa il modello poi arrivano anche le modelle stante qua e vis via mezzo 34 e vai che gianluchino torna sul canale grande giallo giallo e la sua titi messa giù cattivella cattivella ciao giallo sei pronto abbiamo delle modelle strepitose sì 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 ciao ragazzi siamo dai vis microfoniamo stiamo microfonando il bruscio cioè io cosa parliamo terza persona andiamo in magniloquenza ragazzi siamo qui con sabine e alex poi c'è max c'è mio padre dietro oggi facciamo questo cos'è il behind the scene dello spot che stiamo girando di nuovo per televisione qui locali i vis a montoni ragazzi l'azienda della mia famiglia cosa volete sono io che parlo sono io quello che sta davanti alle camere e allora queste cose le faccio io state connessi che adesso ci divertiamo adesso ci divertiamo le ragazze hanno caldo sono bravissime sono bellissime faremo uno spot stupendo brava alex brava salì stupendo sei pronto microfonato dove il microfono non si vede neanche vuoi fare una prova per vedere come va 123 prova prova vedere se gracchia e se ti muovi tanto 123 prova prova 123 prova siamo pronti che cos'è questo stupendo si vede neanche voi non si vedete vai questa cosa vuoi non correre bellissimo non correre Ci siamo divertiti Alex Sabina Ci siamo divertiti Ma come sei divertita Grazie ragazzi Grazie Poi mi manda il video Adesso facciamo la chiusura Di questa telemedita Andiamo Mi sono vestito come un bancario Andiamo